Tutto bene? Faccio davvero così? Sì, ed è adorabile. Se è adorabile, perché non vieni a letto con me? Con lei me, non con me me. Ah. Beh, con un personaggio inventato, scritto da me, basato su di te, interpretato da Natalie Rhodes, fa... troppo meta-litteratura. Meta? Prepariamoci all'eliminazione quando l'esercito dei cloni attaccherà. Potremmo fare un attacco preventivo.